Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui a questo nuovo appuntamento di Laboratori dal Basso, sia la vostra presenza in aula che in streaming, quello di cui parlerà oggi il professor Mantovani, che è il direttore del Laboratorio di Biomateriali e Bioingegneria all'Università di Laval in Canada. È una lezione molto interessante perché parla delle survival skills for scientists. In questi giorni precedenti, per chi ha avuto l'occasione di seguire, abbiamo visto come fare ricerca di alto livello e come comportarsi nel mondo della ricerca da un punto di vista scientifico. Dopodiché abbiamo visto come l'idea che viene sviluppata durante il progetto può prendere i percorsi successivi e quindi scegliere se continuare a rimanere nell'ambito di ricerca scientifica oppure fare il passo in quello che è il mondo dello sviluppo industriale e a seconda dell'idea e di quelle che sono le vostre prospettive, quale scelta prendere. Oggi vedremo come credo sia diventare un buono scienziato, cosa serve per sviluppare le giuste qualità. Passo la parola al professore, vi ringrazio per la vostra presenza, per qualsiasi domanda. Oggi sarà molto interattivo quindi sarete molto coinvolti. Grazie. Grazie Francesca. Va bene? Grazie Francesca. Quindi allora nella continuazione di quello che abbiamo fatto nei scorsi due giorni, oggi parleremo più di come diventare un buono scienziato, me ne metti grosso sulle spalle, ma questo non lo so come diventare un buono scienziato. Quello che so è come non rifare i miei errori, questo lo so di sicuro e quello che proverò a sensibilizzarvi direi è veramente un po' come sopravvivere un po' nella giungla della ricerca per, diciamo, in francese si dice appreanti, per coloro che vogliono diventare ricercatori, diciamo. Sono tre ore di programma che sono state sviluppate con un collega, Federico Rosi, che è direttore dell'Istituto Nazionale della Ricerca Scientifica, Energia, Materiali e Telecomunicazioni in Canada, che è a Montreal e direttore di una Canada Research Chair in nanostrutturati organici e inorganici, materiali organici e inorganici. Lui ci ha pure scritto un libro tanti anni fa ed è da questo libro che abbiamo preso un po' spunto e stiamo preparando una nuova edizione di questo libro e ve ne parlerò tra un po'. Quello che è importante è capire che purtroppo, mi spiace, non ho nessuna ricetta facile per il successo in ricerca e quello che vi dirò oggi e diciamo gli argomenti sui quali cercherò di sensibilizzarvi non possono assolutamente sostituire. Tre cose importanti, le buone idee, lavoro duro e dedication e quindi implicazione in quello che fate. Questo è veramente importante. Il libro è stato tradotto qualche anno fa in giapponese, quindi non è la prima volta che faccio questo workshop, è la prima volta che lo faccio a un gruppo così succinto, normalmente ho tra 50 e 150 persone, ma non è grave. Abbiamo incominciato a fare cose informali nelle scuole di dottorato delle nostre università più o meno una decina anni fa. L'esigenza nacque dal fatto che, credo anche voi, conosciamo tutti gente che ha fatto dottorati, che a livello scientifico reputiamo magari in gamba e poi nella vita non riescono a pubblicare o non pubblicano, non sono quasi mai invitati da nessuna parte, non fanno brevetti e non è importante fare tutto, ma è importante farne almeno uno di quello che vi sto dicendo. E quindi dici perché? Perché se fai cose nuove, se innovi, se crei, se hai uno sguardo sul mondo che è diverso dagli altri, perché nessuno ti invita, perché non lo pubblichi, eccetera. La ricerca non pubblicata, mi spiace, non è ricerca, è masturbazione mentale. Quindi quando vedo gruppi che lavorano per anni e dicono che non ho ancora pubblicato, errore. Ci sono grandi articoli, non sono io che voglio insegnare questo, è Giorgio Whiteside, il professore Harvard. Nel 2000 ha scritto un articolo dicendo che gli articoli si incominciano a scrivere prima di fare gli esperimenti. E allora mi ricordo i miei professori a Milano che mi dicevano che bisogna sperimentare per anni per poi magari arrivare a pubblicare un articoletto. È errore fondamentale. Bisogna non lavorare per anni, ma pensare per giorni, per finalmente l'introduzione, i materiali e i metodi. È una parte della discussione di un articolo. Si possono scrivere senza risultati. L'introduzione non ha bisogno di risultati. Il titolo non ha bisogno di risultato. L'obiettivo, il protocollo, i materiali e i metodi non hanno bisogno di risultati. Incomincia a scrivere l'articolo appena hai in testa un'idea. E quindi, insomma, l'esigenza nacque. Perché? Vedete, quello che sto dicendo sono cose veramente fondamentali, eppure c'è un sacco di gente che ha fatto dottorati, post-dottorati e che non l'ha ancora capita. E allora dici, qual è il problema? Ecco, quindi ci sono diverse università. All'inizio l'abbiamo messo a punto in Canada e in Australia. Ultimamente l'abbiamo fatto in Brasile, Malesia, l'ho già fatto in Europa in diversi posti, Francia spesso, l'ho fatto in Germania. Non l'ho ancora fatto in Italia, lo farò a Milano a maggio l'anno prossimo con una serie di tra 15 e 30 ore di corso. Quindi oggi in tre ore cerchiamo di passare attraverso, diciamo, guardare come sopravvivere in scienza. E l'idea è questa, in un terreno arido come essere capace di mettere i dottorati, i corsi, gli esami. Mi spiace, ma non sono abbastanza per imparare le skills, le attitudini alla ricerca. Innanzitutto uno che vuole riuscire in ricerca deve subito porsi la domanda che cosa devo fare. Quello che devi fare sono cinque cose importanti. Primo, comunicare la ricerca. Quindi conferenze, presentazioni, cose che hanno impatto. Non avere paura di giudicare, non avere paura di sbilanciarsi, non avere paura di criticare. Secondo, pubblicare. E i primi due insieme si chiamano oral and written skills, communication. Questa è comunicazione. Quindi una persona, quindi la comunicazione va coltivata. Allora non so voi, ma io fino a 31 anni, nelle università che ho frequentato, su due continenti, non ho mai avuto un corso di comunicazione. E c'è gente che fa delle lauree in comunicazione. Quindi c'è qualcosa da imparare in questo campo. C'è tutto un discorso da fare sull'etica. Quanti corsi di etica avete avuto? Non molti. Al massimo ne avete preso magari uno, qualche ora, ma è terribile. Eppure la ricerca deve essere fatta in maniera etica. Lavoro, jobs. Come ottenere un lavoro? Selezioni del personale. Ne abbiamo parlato un pochettino ieri e l'altro ieri. Quanti corsi avete avuto su come riuscire un interview? E portanto sarete tutti un giorno chiamati a fare un interview da qualche parte. Se non è un interview vera, una presentazione a un società capitale di rischio, o a un ministero, o a qualcuno. E finalmente, è bello avere idee, è bello scrivere protocolli e introduzioni prima di fare sperimenti, però questa è una cosa vera anche. La scienza senza soldi non è possibile. Quindi bisogna trovare il modo di sovvenzionare la scienza. Quanti corsi avete avuto sul finanziamento di progetti di ricerca? Quindi, vedete, c'è bisogno di qualcosa in questo mondo, perché ci formano fino a 30 anni. È calcolato che una persona che ha fatto laurea e dottorato ha speso più o meno 2 milioni di euro dei soldi pubblici. Arrivare alla fine di una laurea costa 1 milione di euro. Se prendiamo tutti i costi, università, stipendio dei prof, dei bidelli, di quelli che lavorano nelle cose connesse e annesse, e dividiamo il costo di questo per le teste che escono dall'università, un milione di euro a testa. Quando vedete, siete in 10 intorno a un tavolo, dite il governo, lo Stato, ha investito 10 milioni di euro in questo tavolo. E un dottorato di un altro milione. Se guardi le infrastrutture di ricerca che ci sono bisogno, che necessitano, i infrastructures, le infrastrutture, eccetera, se guardi tutto, un milione per la laurea, un milione per il dottorato. Quindi la maggior parte di voi hanno fatto un dottorato o almeno una laurea, quindi qui abbiamo diversi milioni di euro. Eppure non ci hanno mai insegnato come comunicare, non ci hanno mai insegnato cos'è l'etica, è una idea vaga, non ci hanno mai insegnato come riuscire un'interview per avere un posto di lavoro da professore, da quello che volete, e non ci hanno mai insegnato come finanziare la ricerca. Si pensa che leggere articoli, scrivere articoli e fare esperimenti insegna questo. Mi spiace, non è vero. Ecco perché, credo, sono veramente convinto che nei prossimi vent'anni, cinquant'anni, tutte le università metteranno corsi di queste cose. Ed ecco perché ho incominciato dieci anni fa a parlare di che cosa? È semplice, ragazzi, dovete diventare il vostro stesso manager. Dovete essere come, non so, io dico sempre se l'Indion perché è canadese, ma chi è il cantante più alla moda adesso in Italia? Non ce n'è più, sono morti tutti. Fabri Fibra. Chi? Fabri Fibra. Difficilissimo da trovare. E quarto e ultimo è giocare a scacchi. Bisogna giocare a scacchi. Dovete, e giocare a scacchi non vuol dire giocare, vuol dire prevedere due, tre, quattro, cinque mosse in anticipo. L'articolo che ho è buono, però non è eccellente. Cosa faccio? Ad esempio, vi dico subito. Avete un buon articolo, lo mandate, ve lo rifiutano. Avete mandato in un giornale Impact Factor 4. Cosa fate? Prossimo step. A chi non è capitato questo, di mandare un articolo e di essere rifiutati? Già capitato? A me decine di volte. Quindi, Impact Factor 4. Dici, ah, l'ho mandato in Advanced Functional Material, 7. Prossimo step. No, errore fondamentale. Bisogna aumentare. Bisogna andare più in su. Bisogna mandarlo a un livello più alto. Sempre. Correggerlo, migliorarlo e mandarlo a un livello più alto. Poi vi racconterò un esempio. Quindi, perché? Perché dovete play chess. Perché, allora, innanzitutto bisogna essere onesti e dire, l'articolo vale o non vale? Se l'articolo non vale, allora avete ragione. Come si diceva l'altro giorno, ho studiato 3 ore e ho riuscito al corso con 18. Bisogna alzarsi in piedi, chinarsi e dire grazie professore. Invece quello che ha studiato 600 ore e ha avuto 27, deve dire, no, mi scusi professore, ma non è abbastanza. Voglio rifare l'esame. Ma se avete studiato 3 ore un esame di analisi matematica 1 e avete preso 18, bisogna andare lì e baciare la mano al prof e dire, in 3 ore ho studiato un libro. Quindi è la stessa cosa qui. Comunque, adesso entriamo un po' in... E poi c'è qualche piccolo nitty gritty, piccole cosettine un po' croccanti, che cercherò di passare. Qual è l'obiettivo di un scienziato? A me non mi piace la parola scienziato perché in Italia l'hanno sempre... In Italia ho sempre pensato che lo scienziato è uno fuori dal mondo, che non capisce un cazzo di società, che vive in un laboratorio con due topi, la porta chiusa, la luce è spenta e quello che fa pensa tutto il giorno di cose strane. Avevo l'idea di quando abitavo in Italia, di come la gente vedeva Einstein tutto spettinato e diceva, cazzo, quello è uno scienziato. Cioè bisogna essere spettinati per essere scienziati. Quindi, scienziato non mi piace, io preferisco la parola ricercatore, scientist. Qual è l'obiettivo di un scientist, di un ricercatore? No, innanzitutto, come abbiamo già detto, gli obiettivi sono molto personali. E secondo, bisogna essere molto chiari rispetto a questi obiettivi. Qual è il vostro obiettivo? Perché volete diventare scienziati o ricercatori? Siete in cinque, quindi bisogna parlare tutti. Se foste 150 sarebbe più difficile. Ma cinque? Forza, perché voi volete... Comincio io, vi sono voluti proprio male. Perché stai facendo dottorato, Francesca? Allora, nell'ambito scientifico, perché mi piace l'idea di lasciare un qualcosa che possa essere utile e anche il motivo per cui ho scelto un campo medico alla fine, passando per altri campi. Perché il dottorato? Perché secondo me ti dà gli strumenti, se si fa bene, per raggiungere tutte quelle cose che hai detto prima. Cioè, è la prima prova per provare ad essere un manager, nel tuo piccolo. E gli altri? Perché fate questo bellissimo master di due anni con Ugo e Anna? Perché? Dai Ugo, non siamo timidi. Siamo solo in sei. Allora, il master perché effettivamente a me è sempre piaciuta la ricerca, proprio più per, credo oltre che per il concetto di aiutare e ovviamente scoprire qualcosa di utile, anche un po' per soddisfazione personale. l'aspetto problem solving che c'è dietro. Certo, è frustrante per il più del tempo, però poi quando arrivi a capire come funziona un meccanismo, un pathway e così, anche lo trovo particolarmente stimolante, diciamo. Il master invece che dicevamo adesso, vabbè, è interessante perché è un aspetto abbastanza nuovo e innovativo, quindi mi andava di capire come e se poteva funzionare. Anna? Dunque, mi sono laureata qui e ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto fare il dottorato e continuare nell'università. Ovviamente la situazione non è semplicissima in questo ambito, però l'idea di fare ricerca, di trovare soluzioni, per me che sono un ingegnere è proprio questo, l'obiettivo, trovare soluzioni a problemi di diversa natura. I miei studi non sono sempre stati focalizzati sui biomateriali, anzi, è una scelta che ho preso nella seconda parte della mia formazione. Perciò l'ambito non è così preciso per quanto mi riguarda. È l'idea proprio di risolvere, di ricercare, di studiare e trovare soluzioni. Questo è quello che mi ha sempre affascinato. Faccio una risposta in due tempi sperando di non prendere... Quando ho iniziato a studiare fisica e mi chiedevano ma perché di tante facoltà hai scelto proprio fisica, io rispondevo citando un film che si chiama L'Avvocato del diavolo, da dove a un certo punto si chiede al diavolo incarnato perché avesse preso giurisprudenza e lui risponde perché dà accesso a tutto. Traslato in ambito scientifico mi era piaciuta la fisica perché credevo che desse un ambito di strumenti abbastanza variegato che se nel caso della mia vita poi avessi deciso di fare questo piuttosto che quell'altro potesse tornarmi utile come una sorta di bagaglio da portarmi appresso. E per ora devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto della scelta. Questo anche per introdurre il discorso 2 ovvero perché adesso pensando alla mia situazione attuale ho una carriera accademica non proprio in stand-by ma con la quale continuo a mantenere contatti ma non ci lavoro a tempo pieno e poi invece per quanto riguarda il discorso start-up che poi è diventata spin-off o il resto delle mie attività. Lì il discorso secondo me non è stata una transizione vera e propria rispetto alla carriera a quello che era il mio goal della carriera accademica anche se chiaramente ha cambiato un po' le abitudini quotidiane. Questo perché quello che mi divertiva e mi diverte tuttora fare nel corso delle mie giornate è sempre provare qualcosa che nessuno ha mai provato prima. Quella è la cosa che mi dà l'entusiasmo del fare ricerca come del proporre un nuovo prototipo per uso industriale. Quindi quello era il mio obiettivo e lo vivo alla fine dei conti da due prospettive diverse. E tu? Sì diciamo che mi associo a quello che è stato già detto lo stimolo principale è quello di scavare e di provare soddisfazione nel poter rivoltare a 360 gradi un problema e quindi magari riuscire a capire alcune cose laddove non ci sono riusciti altri oppure comunque altri hanno abbandonato insomma lo stimolo principale è quello di riuscire a risolvere i problemi. La scienza non è facile la carriera di ricercatore non è triviale e non è previsibile quindi io dico sempre non continuate in scienza né con la scienza a meno che non siate capaci veramente di definire bene quali sono i vostri obiettivi e gli obiettivi possono essere anche abbastanza non precisi però dentro dovete veramente conoscerli io ho sempre pensato veramente che il mio obiettivo era di mistificare i misteri della natura questa è una cosa veramente che mi è piaciuta ecco perché mi intrigava il sangue con con le superfici la scienza è sfida questo è poco ma sicuro quindi una sfida verso se stesso e qualcuno di voi l'ha già detto quindi perché la scienza chiede di cambiare perspettiva cambiare prospettiva sfidare sempre i dati i metodi tutto sempre per migliorare per verificare e poi la scienza è sfida sfida dei vostri collaboratori dei vostri colleghi sfida dei competitori sfida degli amici che lavorano nella scienza allora sfidare se stesso è una cosa molto personale sfidare i dati sfidare i metodi i protocolli eccetera è interessante ma allora sfidare i collaboratori è una cosa che si fa molto poco a parte nel mondo anglosassone e questo è un vero peccato spesso la gente ha paura di sfidare perché uno dice se gli mando una pietra poi lui me ne manda due è un errore fondamentale quindi ne ho già parlato un po' dicendo quindi non bisogna aver paura di reggette paper dopo averlo dopo aver fatto la review se vedete che non c'è fondamento scientifico anche se è il vostro più grande amico la cosa che potete fare è chiamarlo e dirgli oh bisogna migliorare un po' gli articoli non funziona altrimenti create un circolo vizioso e perdete l'obiettivo di sfida quindi nella scienza non c'è amicizia in questo senso e non è perché si è freddi o altro ma perché la scienza richiede sfida e c'è anche il contrario il paradosso è questo se non siete pronti a farvi sfidare la scienza non è per voi ho già avuto studenti che correggendo il loro primo articolo piangevano e dicevano ma è la prima volta che qualcuno mi dice che non sono bravo e cazzo dico ma c'è 23 anni sei fortunato perché mi scuso ma la scienza ti dice che non sei bravo nell'articolo personalmente il mio sguardo sono sempre due è sempre duplice e io vi invito e invito tutti quelli che lavorano in scienza a pensare a questo non a imbarcare nella mia nave io quando ho davanti una persona guardo sempre il lato persona il lato umano e nella maggior parte della gente trovo molte cose interessanti simpatiche intelligenti e poi devo comunque guardare il lato scientifico e ho colleghi che sono bravissimi e che andrei in vacanza con loro per anni non per settimane ma che non lavorerei mai in ricerca perché non sono rigorosi perché non non le piace di essere challenging non le piace di essere sfidati devo sempre dirgli che sono i migliori e in scienza non sei quasi mai il migliore e io trovo sempre che e poi affinità personali una persona che vi presenta al suo lavoro e vi dice sempre che è il migliore al mondo e io dico scusa c'è qualcosa che non va perché allora ci sarebbero un sacco di prodotti sul mercato da tutti i tuoi quindi quando vedo un professore anche in gamba che mi dice che quello che fa è geniale e io la domanda che ho è chiara e gliela faccio è perché non sei sul mercato e finalmente capite che sono tutti geniali ma è geniale a casa loro e allora ecco perché dico dividete i due la scienza credo anche che è fatta di un po' di modestia modestia di dire guarda questo è quello che facciamo noi nel nostro laboratorio con i mezzi che abbiamo ognuno di noi quando siete in un sistema voi a Lecce io in Canada gli altri a Milano Roma io mi vedo sempre un'immagine e se sei seduto sul treno puoi fare quello che vuoi puoi correre come vuoi puoi correre come un dannato come un atleta dei cento metri ma non andrai mai più veloce del treno quindi è ovvio che in un ambiente cioè non puoi essere un premio Nobel i premio Nobel si coltivano poi se volete alla fine mi fate domande e vi dico non dico che è una stronzata un premio Nobel no però premio Nobel non pensate che è un ricercatore nel secondo seminterrato senza porta senza finestra con tre topi e un pezzo di formaggio che sta lì da trent'anni e pensa ai misteri del mondo qualcuno bussa la porta e dice scusi gli diamo il premio Nobel no mai conosco gente che è da dieci anni che va in Svezia quattro volte l'anno per farsi nominare per il premio Nobel dovete essere il vostro manager se vuoi ambire al premio Nobel devi fare la ricerca che va in quella direzione e devi fare tutto quello che è necessario se vuoi giocare a Monopoli devi seguire le regole del Monopoli se no gioco a Tombola e le regole sono più semplici quindi questa è la parola chiave sempre tutto in maniera costruttiva e ricorderò sempre quando ero studente al dottorato il primo articolo rifiutato ho detto Dio buono se mi becco l'editore davanti gli do un pugno e adesso invece no adesso mi capita di trovare gli editori certe volte dico grazie di averlo rifiutato perché in fondo l'ho migliorato e l'ho pubblicato meglio quindi bisogna sempre prendere in maniera costruttiva le cose l'etica l'etica è una grande parola perché? perché la pressione è grande io dico sempre ai miei studenti non fare mai gli angoli rotondi perché quando fai l'angolo rotondo perdi qualcosa e quello che perdi più arrotondi gli angoli gli spigoli più sei portato ad arrotondarli quindi è un circolo vizioso io trovo che frode falsificazioni cattive rappresentazioni di dati copiare pubblicazioni multiple autori che cadono su articoli senza neanche averli letti dovrebbero essere veramente banditi sappiate una cosa su mille che lo fanno dico un cifra a caso uno o due sono presi ma quando siete presi è finita ci vogliono anni per salire e ci vuole un secondo per scendere io dico è l'unica cosa di pura che abbiamo nella scienza non dovremmo giocare con queste cose anche se la pressione è alta anche se se sei uno studente al dottorato che ha finito un dottorato con zero articoli ok grazie sei benvenuto nella massa due articoli sei nelle barre di errore cinque articoli cominci a essere all'estremi della gaussiana dieci articoli se è un caso raro è ovvio che tutti vogliono preferiscono lavorare con i casi rari che con le masse quindi è ovvio che la pressione c'è io dico sempre il lavoro e la pianificazione non solo il lavoro perché dico sempre ai miei studenti mi capita di avere studenti e io ho veramente l'immagine di questi studenti come studenti che hanno una bicicletta e che pedalano come i dannati che sudano come i dannati e in realtà le dico sempre caspita smetti di pedalare così forte cambia velocità quindi ecco perché dico pianificazione un dottorato in quattro anni con dieci articoli non si improvvisa non si dice già incominciamo la ricerca no si dice dieci articoli quando li scrivo chi li scrive cosa mettiamo dentro incomincia il giorno 1 di dottorato e lì devi dire questa è la mia strada e di questa strada farò il mio dottorato in tre articoli un articolo parla da A a L l'altro da L a P e l'altro da P a Z perfetto però mentre lavoro su questo il mio collega lavora su qualcosa di connesso ok allora lui ha il suo dottorato però posso magari aiutarlo in queste cose perché io avrò sviluppato questa expertise e quindi lavorando sarò secondo terzo attore sul suo articolo che non vuol dire ci mettiamo d'accordo tu metti me io metto te no perché non è alla fine qualcuno vi deve chiedere ma tu cosa hai fatto in questo articolo e qualcosa devi aver imparato quindi ecco perché dico personalmente l'etica è una cosa importante ma anche qui ci vorrebbe 45 ore di corso la cosa più difficile è questa conoscersi quali sono le vostre forze in che cosa siete bravi Francesca qual è la tua forza in che cosa sei brava cosa fa di te un essere diverso in questa sala team player mi avrebbe da dire la prima cosa giocatore di squadra e tu mi pongo continuamente domande questa è la prima da rispondere se gli altri magari hanno tralasciato qualcosa che potrei vedere magari io quindi quando leggo l'articolo cerco di essere sempre critico non lo so se sono la stessa cosa perché diciamo se dovessi farmi un'autocritica io non sento di avere rigore ah ok non rigore ma vedi gli angoli morti cerco di trovare magari leggo un protocollo e dico ma sta cosa qua veramente funziona così perché a me magari quindi critico senso critico senso critico cerco cerco ugo tu lo volevi dire per me forse senso critico senso critico decisamente senso critico costruttivo costruttivo ma comunque bisogna all'inizio deve essere un po' distruttivo se vedo per prenderci piacere anche dai siamo comunque umani Anna non saprei io adoro risolvere problemi cercare di capire il motivo delle cose e andare a fondo quindi anche curioso si magari curioso Andrea se dovesse riassumere thinker outside of the box scusa? pensare fuori dagli schemi quindi vedere i problemi da un'altra prospettiva cambiare le carte in tavola quello è la credo che sia il mio punto di forza tieni il microfono e che cosa invece ti piace fare? qual è quello che se tu potessi decidere faresti per il resto della vita? queste sono domande importanti perché se riuscite a fare quello quella è felicità devo riprendere però praticamente il discorso di prima quindi spero di non ripetermi però la mia posizione ideale the dreamer's perspective sarebbe un fondo non eccessivamente non eccessivamente cospicuo in modo tale da non avere dipendenza da strumenti per fare prove sperimentali ma avere quindi indipendenza finanziaria? indipendenza finanziaria un mecene ti serve un mecene sì praticamente ti serve un mecene e in tutto ciò diciamo avere la possibilità di proporre esperimenti e avere un network che sia in grado poi di dirmi che cosa succede di quelle proposte di esperimenti quella per me sarebbe la felicità interessante perché questa è una cosa molto chiara e poi bisogna solo capire cosa fare per averlo e non è impossibile averlo c'è gente che è capace di averlo Anna cosa ti piacerebbe fare per il resto della vita? per completare il discorso perché mi rendo conto che la prima debolezza è il non essere troppo metodico e perseverante sul lungo termine quindi mi entusiasmo all'idea all'inizio dopodiché quando comincio a dare i primi risultati positivi dico ok sì bella però non mi va di andare a scoprire tutti i dettagli è anche un piccolo difetto è anche un piccolo difetto dell'età perché sei comunque relativamente giovane quindi è normale che a 26 anni uno non guarda al futuro come uno di 30 o di 35 o di 40 o di 45 capito? certo questo il mio essere molto critico nei confronti di quello che faccio e che fanno gli altri sia perfetta anche se non so se per inesperienza o per altro mi manca ancora un po' effettivamente la critica costruttiva nel senso so che una cosa potrebbe non andare bene ma spesso non so come perfetto quindi è anche avvilente certe volte in realtà quindi no così non può funzionare la vascolarizzazione non può funzionare quindi non lo fare tanto e invece bisogna perseverare dire no io lo faccio uguale poi vediamo poi però bisogna sapersi fermare quando diventa inutile Francesca tu? io vorrei fare il coach del team lei vuole essere il capo ma sai per essere cowboy ci vogliono gli indiani se non ci sono gli indiani è inutile fare il cowboy sarà dopo la domanda non so sarà più tardi magari ci vuole anche le vacche dipende da che cowboy sei dipende da come vedi il cowboy di indiani avere quello che ho oggi col dottorato non so se forse sarà più tardi la domanda fra cinque anni ecco cinque volte più grande quindi cinque anni e Ugo cinque volte i soldi che abbiamo la disponibilità che abbiamo oggi di economica ok e tu? diciamo che io ho elaborato quest'idea nel corso poi della mia esperienza lavorativa del passato e ho capito che quello che mi piace fare è praticamente perché vengo da questo tipo di esperienza e quindi e magari avere un'azienda molto improntata sulla ricerca che produce dei prodotti e quindi magari riuscire ad autosostenersi vendendo i propri prodotti e poi fare ricerca per migliorarli e innovarli continuamente quindi diciamo che mi interessa molto la parte imprenditoriale della ricerca ognuno di voi ha il suo programma certo è abbastanza vasto e magari non ancora preciso e ne vede tanti e certi ne vedono solo uno ovvio che lui è più efficiente più velocemente sappiate riuscite a capire dove andare è più facile sarà arrivarci tuttavia certe volte e questo è anche molto culturale perché più andate al nord dell'Europa o più andate al nord nell'emisfero nord e più andate al sud nell'emisfero sud più la gente è monocromatica più vai verso l'equatore più la gente è policromatica quindi la gente tiene tutte aperte le porte dice un giorno chi lo sa magari può essere utile eccetera dipende non sono sicuro che questo sia meglio di questo dipende molto da voi dalla vostra personalità la prima cosa comunque da pensare adesso che avete un'idea di cosa vorreste fare la compagnia cinque volte di più essere creativi eccetera è pianificare e questo purtroppo più vai verso l'equatore meno la gente lo fa più vivi alla giornata meno sarai capace di arrivare al sole perché perché se la prima cosa che fai la mattina arrivando in ufficio è guardare gli email vuol dire che l'email è la cosa la più importante che farai nella giornata e questo è grave e non lo dico perché dico perché anche io quando arrivo la mattina spesso sono portato a guardare gli email e poi mi riprendo e poi mi riprendo e dico no usiamo la logica la mia giornata questo è un esperimento che faccio con i miei studenti di primo anno la mia giornata deve essere come un vaso vuoto e prendete un boccale vuoto e nel boccale mettete dentro che cosa? prima cosa una grande pietra abbastanza grande che entra dal collo la vostra giornata deve essere come un boccale vuoto e dovete andare al lavoro dicendovi cosa è importante oggi qual è la grossa pietra che metto nel boccale e quella grossa pietra tutte insieme devono fare la piramide che vi porta al sole devono essere la vostra strategia tu puoi dire io metto una pietra al giorno quando avrò una piramide due chilometri di altezza avrò finito il lavoro e ci vorranno 25 anni per avere la piramide però la grossa pietra ogni giorno devi metterla una volta che hai messo una grossa pietra nel boccale poi puoi mettere le piccole pietre prendere il caffè con uno fare il cheat chat fare la piccola discussione o aiutare l'amico a risolvere o fare la telefonata che devi fare o guardare l'email quindi metti le più piccole pietre quando il boccale è bello farlo mentre parlo immaginatelo un boccale una grossa pietra pieno di piccole pietre quando le piccole pietre alla fine devo poter chiudere tutto quindi non posso fare la montagna su quando tutte le piccole pietre possono essere piccole piccole secondo l'importanza di ogni cosa che fate nella giornata sono nel boccale e voi dite non posso mettere più niente invece io arrivo con un sacchettino di sabbia e dico no guarda ci mettiamo ancora e quel sacchettino di sabbia sono i piccoli granelli che sono importanti e che in fondo pensavi che non entrassero invece entrano e alla fine dico adesso posso mettere ancora qualcosa dopo avere e gli studenti mi dicono eh no è pieno di sabbia e invece no prendo un bicchier d'acqua e aggiungo acqua e l'acqua entra ancora perché tra gli interstizi dei grani di sabbia ci entra l'acqua la vostra giornata deve essere così non tutti i giorni si può mettere acqua e sabbia ma almeno la grossa pietra dovete metterla e le grosse pietre dovete prevederle almeno una settimana in anticipo io dico sempre ai miei studenti la domenica sera quando il weekend è finito che sei ancora un po' stanco del weekend e che so vogliono andare a nanna sediti dieci minuti e pensi e pianifichi la settimana e mi dici quale è la grossa pietra di ogni giorno per il tuo progetto di dottorato che terminerà tra cinque anni se non fai questo poi venerdì sera iniziando il weekend mi mandi un email e mi dici cinque grosse pietre sono in posto sono nel boccale ok la tua settimana è fatta se passi la settimana a mettere acqua o a mettere sabbia non resterà niente nel boccale perché la piramide non si farà e questo è stupido è una cosa molto semplice ma nessuno me l'aveva mai insegnata l'ho dovuto scoprire da solo e questo ho sempre trovato strano perché ho detto perché a scuola non mi hanno mai detto che di un concetto che devo imparare c'è una cosa importante i tedeschi imparano così i tedeschi imparano main concept il concetto principale e poi concetti complementari quindi non sto dicendo che i tedeschi sono migliori assolutamente però sto dicendo ispiriamoci dalla credo che i tedeschi sono migliori nella pianificazione e infatti si sono autotassati in maniera contenta quando la Germania si è unita e si tratta di due viaggi all'anno si tratta di 10.000 euro a famiglia che hanno pagato in maniera obbligata ma contenti di farli per integrare l'est all'ovest non si tratta di 50 euro al mese è stato di 10.000 euro due viaggi all'anno due vacanze le vacanze di Natale le vacanze dell'estate le famiglie media ha pagato tra 6.000 e 10.000 euro allo stato in più per 10 anni per tirar fuori l'est dai problemi però 20 anni dopo Berlino è stato nell'89 99 più o meno 20 anni dopo ci siamo possiamo dire che non sono ancora veramente fuse ma sono integrate c'è l'est che lavora nell'ovest hanno i problemi ma mi capite questa è pianificazione questa non è creatività questa non è immaginazione questa non è sognare sul sul come si chiama summit sul sognare la cima della montagna no no questa è pianificazione quindi la pianificazione è veramente importante e pianificate a corto termine a medio termine e a lungo termine tenete i piani super flessibili cambiateli ogni mese ma pianificate da quando non è da tanto ho 45 anni sono 7-8 anni che pianifico da quando pianifico pianificare cosa vuol dire che prendo il mio Outlook e ci metto che lunedì mattina dalle 10 a mezzogiorno devo lavorare ho un meeting con me stesso e in quel meeting alla fine devo aver scritto 5 pagine di un editorial o di un articolo o di altro questo è pianificare pianificare non è sì sì questa settimana no no è stasera devo aver fatto 1 2 3 poi spesso arrivo la sera e ho fatto tutto tranne 1 2 3 non è grave rimetteli domani quando vedi però che due settimane che posticipi quello si chiama procristinare allora dici cazzo qui c'è qualcosa che non va ragazzi e non sto dicendo che è male mi sto dicendo che è bene se hai fatto altre cose nel frattempo però quello che vi dico è più pianificate in anticipo più tenete le vostre pianificazioni flessibili più serete capaci di raggiungere gli obiettivi anche obiettivi come quelli grandi di avere un dottorato o avere un posto perché un posto e un fondo si pianifica se vivete alla giornata nessuno vi crea un fondo a parte ma c'è modo di dire che organizzo il lavoro in modo da investire 20% del tempo per ottenere 80% dei fondi che ho bisogno se questo è il tuo obiettivo è geniale lavoro un giorno a settimana e in quel giorno trovo lo stipendio di tutta la settimana e poi ho 4 giorni per fare la ricerca come la vedo devi sapere quanto vali devi sapere quanto vuoi se tu dici io a me mi bastano 2000 euro al mese trova il lavoro che in un giorno ti permette di guadagnare 500 euro e tu in un mese in 4 giorni guadagni 2000 euro gli altri 4 per 4 16 giorni ti siedi e fai ricerca come vuoi non dico che è facile però dico che 500 euro in un giorno a parte prostituta o prostituta ci sono altre cose da fare ok perché bisogna pianificare perché se non pianificate procrastinate questo è umano e credetemi questo è anche molto italiano e vedo tanta gente che mi dice ma io lavoro sto 15 ore all'università e cosa hai fatto oggi se ogni sera quando andate a casa fate l'esercizio che faccio certe volte con mia moglie gli dico questa settimana sento che sarà una settimana lurida per me le settimane luride sono quando la settimana incomincia con così da fare e finisce con così da fare e dico c'è qualcosa che non va perché vuol dire che ho avuto una settimana e non ho fatto niente ogni sera entrando in casa chiedimi cosa ho fatto oggi se non sono capace di dirti cosa ho fatto c'è un problema e ci sono i problemi ci sono settimane che entro in casa e dico oggi beh non lo so però la giornata è volata e ho mangiato in dieci minuti quindi non è stato e non ho preso neanche un caffè e non ho capito l'importante non è di entrare a casa e entrare in casa la sera e bastonarsi o fragellarsi no è di dire cazzo questa settimana ha fatto niente quindi ecco perché quando viaggio lavoro perché quando viaggio devo essere efficace stamattina avevo due ore e dovevo scrivere un editoriale di cinque pagine e ho dovuto scrivere in due ore non avevo tre ore perché poi ero con voi e quindi ho capito mi capite quindi questo è veramente la mia credo che è veramente la cosa importante e poi pianificare pianificare domani la settimana prossima il prossimo mese chissà dove sarà tra cinque anni chissà cosa farà tra cinque anni chissà cosa farà tra dieci anni chissà più o meno cosa farà tra venti anni questo non è importante questo non è importante perché a meno che per te non siamo anche a senanza può essere uno scopo di vita può essere dire io tra cinque anni mi vedo assolutamente in Norvegia o mi vedo in Svezia o mi vedo no io guarda ero in Indonesia qualche settimana fa a un congresso e una studentessa mi dice no io il mio sogno di finirmi il dottorato è passare un anno lavorando nella ricerca in Nuova Zelanda e beh se è a seconda mio dottorato sai cosa farai tra tre anni tra adesso e là fai metti le grosse pietre che sono necessarie per far questo mi capisci? poi capisco qualcuno ha un'idea tra cinque anni cosa vuol fare? lei che è nuovo? non ancora? e dove si vede più o meno? fuori itali di un'altra ah Andrea tra cinque anni con la domanda fatta così sì mi vedo ritornato alla ricerca in ambito sperimentale e basta poi non c'è bisogno di sapere nel laboratorio sarò direttore o non sarò direttore però e più se non ci pensi mai sarai dove gli altri vorranno che tu sia se invece ci pensi mi capite? ecco perché trovo che pianificate e poi cambiate e pianificare vi aiuta a fare una cosa che tanta gente non capisce capitalizzare sulle opportunità quando arrivano questa è una cosa essenziale vi racconterò una cosa un po' personale però tanti anni fa mi si fu mi si diede un bando di concorso quando avevo 16 anni dice c'è uno scambio con il Giappone dice vai in Giappone dice un mese con questa fondazione allora vado a Milano vedo la fondazione parlo dice si si dice guardi lei riempie il modulo ci dice perché non ero mai stato fuori ok ma che lingua si parla dice ma con l'inglese poi tutto organizzato ok ci provo il risultato faccio un mese in Giappone e trovo geniale appunto 16 anni quindi fai tutto tranne che pensare all'indomani poi torno in Italia e dico cazzo ma a me è piaciuto veramente voglio tornarci l'anno prossimo ricontato la fondazione a 19 a 19 una volta nella vita mai due non c'è mai stato nessuno che è andato a due dico perché ah dice perché è così ma vabbè ma posso provarci ah si dice non c'è regola che dice di non andarci due volte e il risultato ho pianificato un po' la cosa ho detto ma io ok faccio piccole cose come ad esempio imparo un po' di giapponese prendo un corso al centro culturale giapponese di Milano secondo me mi dà degli atù e il risultato sottometto una domanda dicendo mi è piaciuto talmente che sto prendendo un corso sto leggendo delle cose voglio andare a fare questo ho già preso contatti con gente in Giappone mi capite capitalizzavo le cose che mi arrivavano quando vedevo aprivo il giornale vedevo Giappone leggevo è più interessante se invece non avevo l'idea di andare in Giappone passavo il giornale e guardavo il cinema mi capite? il risultato sottometto la domanda e mi hanno ancora dato la borsa e sono andato in Giappone due volte nessuno l'aveva mai fatto quindi osare ma pianificando il fatto di pianificare vi fa chiarire il perché un giorno qualcuno aprirà il giornale vicino a voi dove c'è scritto un grosso annuncio borsa di studio per il Giappone o per la Norvegia e voi tutto quello che volete andare in Norvegia o in Giappone o dico questo ma potrebbe essere ho avuto studenti che mi hanno detto no io quello che voglio fare è studiare i metalli degradabili però almeno hai una passione per qualcosa e quindi apri il giornale vedi metallo degradabile e dici cazzo questo mi interessa più di tutto il resto quindi pianificare non è veramente importante per rispettare il piano di viaggio quello è una cosa da burocrate quello che è importante pianificare è per dire tra cinque anni mi vedo o non mi vedo lì tra cinque anni mi vedo lavorare alla San Pellegrino e a mettere i tappi sulle bottiglie e ci sono più o meno 40 bottiglie al minuto che mi arrivano nelle mani o invece mi vedo fare un altro lavoro sono un tipo che cerco la libertà voglio un lavoro libero o sono uno che mi piacerebbe tantissimo alle 8.00 massimo timbrare un cartellino e alle 10.15 ritimbrarlo per andare a bere il caffè e alle 10.25 ritimbrarlo per rientrare e alle 12.30 massimo ritimbrarlo per andare mi capite? se tu automaticamente dici no 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 e alla fine ti resterà bene qualcosa non scegliere e scegliere ma non immaginare dove si si trova tra qualche anno quello è perdersi mi capite? ecco perché anche se tu dici io quello che voglio fare è ricercatore industriale ho avuto studi guardate io studiavo ingegneria con uno a Milano Joe Dallara questo mi diceva io nella vita voglio andare a Ferrari sì primo anno banco di ingegneria voglio andare a Ferrari a lavorare sì sì Joe va bene andremo tutti a Ferrari secondo anno no no dice sto leggendo tutto quello che vedo devo andare a Ferrari perché non posso fare nient'altro nella vita quinto anno scegli i corsi tutti in costruzione automobilistiche eccetera eccetera e poi dice no adesso devo trovare uno stage a Ferrari ma conosceva talmente Ferrari che appena ha scritto una lettera non gli ha scritto la lettera che mi scrivo gli studenti cinesi caro professore il suo campo mi interessa un sacco e c'è un posto per me quanto è la borsa di studio no questo scrive dice cazzo io so che a Ferrari state facendo questo questo e questo mi vedo lavorare su questo posso portarvi questo ho studiato questo al Politec preso in stage di tesi un anno e mezzo di stage di tesi di laurea a Ferrari tesi sul il turbo il recupero di qualcosa nell'ecoenergetica non mi ricordo una cosa ok finito il coso assunto a Ferrari adesso lo vedo nella squadra corse che percorre il mondo lo vedo sempre in televisione è uno di quelli che calibra la macchina prima che fa la ripartire e questo ha incominciato a 19 anni a dire per me Ferrari 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 non dico di andare tutti a Ferrari perché non c'è mica posto per tutti però dico se la tua idea è dire mi vedo lì e magari non ci arriverai però sfrutterai tutte le opportunità che ti arrivano quindi sesire cogliere l'opportunità quando ti arrivi invece se non ti sei mai prospettato nell'idea di avere quello l'opportunità è informazione e oramai c'è da dire una cosa avere l'informazione molto facile soprattutto oggi ma ce n'è talmente che finalmente siamo ancora persi in tutta sta informazione quando vedo i miei studenti che entrano in tesi di dottorato e la prima ricerca che fanno la fanno su Google mi viene voglia di dargli un kick in quel posto e di dirgli kick out Google va bene quando cerchi il ristorante in città dove sei andato settimana scorsa ma almeno abbi la cortesia di usare Google Scholar che almeno è stato un po' peer reviewed e poi abbiamo le base dati le base dati è una manna e invece no molti dei miei studenti utilizzano ancora Google internet io nei giornali non credo più non leggo quasi più nessun giornale mia moglie mi dice che è per quello che non so mai niente di quello che succede nel mondo io non sono più un lettore di nessun giornale tranne qualche raro giornale in Italia l'unico che leggo è internazionale o Corriere Internazionale in Francia o Asia Times e mi piace leggere lo stesso giornale in diversi continenti quindi New York Times Asia Times per vedere quello che l'uno contraddice dell'altro e lì capite come è inutile leggere i giornali ma questo è personale conferenze conferenze è una cosa veramente importante ed è una cosa interessante per noi in scienza perché è chiaro lo dicevo ai miei studenti in Indonesia e settimana prossima abbiamo questo congresso a Roma e ci sono sei studenti dal Canada che vengono e io gli ho detto ai miei studenti siate sicuri che in quel congresso lì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato capirete 0.5% di quello che si dice ma è l'obiettivo l'obiettivo di farvi capire come primo non siete soli nel mondo a lavorare sul vostro progetto c'è altra gente che ha lo stesso vostro obiettivo e questo è veramente ripagante perché questo ti dà la forza ad andare avanti quando sei solo nel tuo ufficio porta chiusa luce spenta e dici ma io sto combattendo da solo contro la con quella tricultura di cellule e dici ma che me lo fa fare e invece quando arrivi in un congresso e vedi che no in Svezia c'è gente che va la stessa cosa in Israele c'è una compagnia che commercializza in Corea hanno già dei prodotti e dici cazzo sono nel top notch sono alla cutting edge sono al summit della cresta della montagna sono sulla vetta della montagna e quindi e poi c'è il networking il networking purtroppo gli italiani erano forti nel networking purtroppo poi facevano troppo filtraggio e finalmente io la vedo così oggi il mondo della ricerca è più basato sull'aspetto un po' anglosassone britannico tutto aperto il mondo della ricerca diventa molto collegiale i criteri sono chiari le cose le sai se vuoi pubblicare in Nature questo è il livello se andate sul sito di Nature Materials Nature Nature Protocols ci sono dei webinar online per dirvi cosa non fare se non volete se volete non essere rifiutati regetti the paper cosa fare per pubblicare nel giornale ma lo dicono al contrario cosa non devi fare se non vuoi essere regetti qui quindi tutto diventa collegiale credo che è un bene personalmente mi piace non c'è più niente di nascosto e infatti le borse in studio delle grandi università sono pubbliche poi non è così veramente dappertutto il filtraggio è difficile in un mondo così ricco di informazioni essere capaci di filtrare è un'arte è un'arte ancora una volta che non ci si alza la mattina dicendo oggi filtro è una cosa che si affina solo facendo ricerche bibliografiche capite quali sono le keyword da mettere per essere successful per riuscire e poi quello che dico sempre è sempre lo stesso più filtrate più diventerete bravi a filtrare quindi filtrate questo è veramente importante e non non avere mai paura di essere regettati perché questo è veramente stupido i rigetti fanno parte della vita solo quello che non prova non sarà mai rigettato ed sono d'accordo in Italia c'è un po' la cultura del negativo ti hanno rifiutato l'articolo sì però ne ho mandati 40 quest'anno e ne me ne hanno accettati 30 ok me ne hanno rifiutati 10 però ne ho 30 pubblicati cioè sì potete averne 40 sì ok quindi bisogna imparare è veramente un learning curve bisogna veramente imparare ad accettare con grazia e dire ah hanno ragione questo articolo appena prima di venire qui posso dirlo perché non viene da qui ho letto un libro ho letto un articolo di italiani dove in fondo c'era anche colleghi che conosco relativamente bene dove c'era un lavoro di tesi tesi di laurea ma pubblicato in una rivista veramente ad alto livello e l'editore mi diceva ma cosa ne pensi e dico è un buon lavoro molto strutturato ma per uno studente di laurea non è per questa rivista cioè è come vi dicevo un po' l'altro giorno a quelli che seguivano se hai studiato tre ore l'esame di analisi matematica accetta il 18 e di grazie se hai studiato 700 ore non accettare il 24 perché vari di più e magari le domande sono state fatte male quindi quello che dico è non puoi vincere se non giochi una cosa è sicura nessuno busserà mai alla porta della vostra appartamento una sera alle 10 dicendo vi busseranno dicendo vuoi comprare la polizia di assicurativa ma non vi busseranno mai dicendo abbiamo una borsa di studio per lei la vuole? qui ci sono 50.000 euro all'anno senza tasse che arrivano per lei per fare un dottorato unico o uno studente in Canada che ha preso una borsa di eccellenza ce ne sono 20 in tutto il Canada 50.000 dollari senza tasse all'anno per quattro anni per fare un dottorato sono 36.000 euro 3.000 euro al mese sarà a Roma settimana prossima ci ha provato due volte ci ha messo delle settimane per fare il lui delle settimane io dei giorni per fare un winning proposal ma alla fine ci è riuscito se non provava aveva la borsa di studio classica di 15.000 ha provato è outstanding è eccezionale quindi e ci è riuscito sempre questa è la cosa che ho la principale nota negativa dei miei studenti italiani quando scrivono una borsa di studio il protocollo di una borsa di studio in Canada dicono sempre tanto non l'avrò e no allora non scriverai neanche tu devi scrivere dicendo se già tu non sei convinto che l'avrai nessuno te la darà tu devi scrivere essendo convinto che sei il migliore dico sempre convincimi perché sei il migliore di tutti quelli che la chiederanno perché ci sono 600 borse e ci sono 6.000 che la chiedono perché tu sei il migliore 3.000 non devono neanche chiederla ma sui 3.000 che la chiedono ce ne sono 800 600 che l'avranno gli altri non l'avranno perché tu vali meglio dai 5 che ti stanno intorno e non è sociale non sono un giocatore di team eccetera è che se il team è composto da gente che tutti hanno la loro borsa di studio coi fondi che abbiamo viviamo da re possiamo andare a 2 3 conferenze all'anno i soldi li reinvestiamo in fare altre cose se dobbiamo sopportare io dico sempre ai miei studenti vuoi fare un dottorato trovati la borsa di studio se vuoi fare un dottorato vuoi ami le sfide ami conoscere ami vedere più e non sei capace a trovarti 12 mila euro l'anno a 25 anni c'è un problema come dico ai miei colleghi infatti non sono popolare se sei un professore e non sei capace di trovare 100 mila all'anno c'è un problema cazzo hai stato fino a 30 anni credi di essere migliore dici a tutti che sei il migliore vuoi pubblicare in grandi giornali e non sei capace di trovare 100 mila per dare una borsa di studio ai tuoi studenti c'è un problema e dopo mi dicono cazzo ma tu sei elitist no non sono elitist però bisogna assumersi ho studiato per avere 30 voglio 30 studio per avere 18 voglio avere 18 tu non vuoi avere studenti però non dirmi che ci hai provato non ci provi e allora va bene se preparate la vostra applicazione bene per un lavoro per una borsa di studio per un grant per qualsiasi cosa per una fondazione privata anche se non l'avete state investendo del tempo nello sviluppo della vostra carriera dico sempre ai miei studenti cosa hai scritto questa settimana dici ho letto articoli e non hai scritto niente no hai buttato via una settimana cosa resta scritto di quello che fai se non resta scritto niente non sei capace a comunicarlo perché è un articolo nella testa lo dimenticherai perché non apri un fischio Excel un file Excel perché non ti fai una bella tabella all'ultima colonna è la referenza e perché ad ogni colonna non ci metti le cose importanti Excel è così bello puoi aggiungere una colonna quando vuoi una riga quando vuoi ci metti un appunto ci metti una frase ci metti un protocollo se alla fine della giornata non avete scritto niente giornata persa in generale e io dico stessa cosa qui investite nella vostra capacità di fare scrivere un'applicazione e ragazzi praticamente non c'è nessuna applicazione che non può essere reciclata l'introduzione c'è uno state of the art potete reciclarlo in un articolo la parte che parla di voi stessi potete reciclarla nel CV la parte che parla del protocollo potete reciclare in un materiale se metti in un articolo quindi se è scritto bene se è potente se è forte non avete buttato via del tempo ma se nonostante tutte queste cose continuate a dire no voglio fare ricerca sapete che ci sono tre mondi della ricerca c'è il mondo accademico gli studenti è quello che conoscono di più infatti quelli che fanno ricerca spesso pensano che c'è solo l'accademia sono attività più scolari e l'obiettivo è veramente pubblicare in peer review journals le descrizioni dei lavori includono ricerca insegnamento e servizi quando un professore è assunto in qualsiasi università nel mondo non è assunto solo per insegnare sono si chiama liceo è assunto per insegnare per fare ricerca che è un'altra attività di insegnamento di formazione di gente a più alto livello e servizi servizi alla comunità in Canada lo chiamano Ryan Inc quindi lo chiamano come sei capace di far splendere il Canada nel mondo ok? i vantaggi libertà la libertà accademica non è comparabile a quasi nessun altro lavoro nel mondo e questa è una cosa veramente interessante hai la libertà soprattutto di scegliere i tuoi progetti l'ho già detto se credi che l'aglio sugli occhiali è un buon metodo per togliere l'appannamento puoi lanciarti in questo è un lavoro sicuro per certi è importante non so se lo resterà sicuro per molto però per il momento sicuro sono ore flessibili normalmente si fanno più ore di quelle per cui si è pagati se vuoi puoi avere lunghe vacanze sì ho colleghi a Parigi che il 10 di luglio mi mandano un'email mi dicono ciao ci vediamo il 5 settembre perché adesso c'è la festa della Francia e dopo siamo in vacanza per 6 settimane boh io non ho mai preso più che due settimane di vacanza e i primi 5 anni non ho preso un giorno personale perché volevo riuscire volevo investire non volevo mancare le opportunità poi ci sono quelli che fanno laboratori governativi CNR in Germania ce ne sono diversi in Francia eccetera normalmente è un ambiente organizzato pianificato vuol dire che è un ambiente dove c'è una certa gerarchia non puoi fare veramente quello che vuoi ti potrebbe anche se non è magari arrivato in ultimi anni ma potrebbe arrivare che si decida che il tuo laboratorio non farà più materiali farà solo energia e o ti reciclo cambi laboratorio o vai in un altro ti sposti in un altro quindi la libertà è un po' meno e poi è più top down parte dall'alto l'idea arriva in basso va bene dipende anche dalla tua personalità perché la libertà è il miglior dei regali per uno che la cerca ma è il peggiore degli insulti per uno che non la vuole perché non è facile dire bene cosa vuoi cercare qual è il tuo qual è il campo che vuoi sviluppare nei prossimi 30 anni perché quello che ti dicono quando vuoi fare professore a 20 anni in generale all'estero magari in Italia è un po' diverso perché arrivi nel laboratorio di un professore lui fa polimeri quindi tu devi fare polimere ma quando arrivi in Canada in America in Australia in UK anche in Francia dico ma tu cosa vuoi fare? ma dici io sono formato nei metalli ma adesso voglio annunciarmi nei nanocoating e perché? e che cosa? quali sono le tue credenziali? perché puoi fare questo? e dici beh io penso per questo, questo, questo e questo e cosa chiedi? e cosa vuoi? quindi questo non puoi farlo in un laboratorio governativo gli obiettivi della ricerca vengono dall'alto verso il basso e normalmente vengono dai gestionari che sono sempre meno scientifici e questo può essere un problema spesso però lavori con obiettivi comuni ad esempio dobbiamo sviluppare un'industria in questa regione quindi quello che dobbiamo fare è prendere le industrie e rendere competitive e dobbiamo sviluppare l'ingegneria della roccia perché abbiamo rocce in Puglia e quindi basta roccia ornamentale l'obiettivo è tra 5 anni la Puglia diventa leader in Italia la gente vorranno rocce di Puglia e non più marmi di Massa Carrara Massa Carrara seconda categoria perché no? allora dice buttiamo tutte le energie lì può essere super motivante perché ti senti parte di un team eccetera è una ricerca molto applicata e generalmente è un supporto a settori specifici i mandati gli obiettivi i goal sono specifici non sono generali non sei lì per capire i meccanismi secondo le quali l'adesione cellulare è stimolata da un cambiamento di temperatura no sei più e normalmente non hai insegnamento c'è un sacco di gente che vuole diventare professore ma a cui non piace insegnare forse non l'ho mai capito perché cazzo sei 20 professori non sai insegnare come un cuoco a cui non piace mangiare e mi dico sembra come fa a essere cuoco comunque è personale e poi ci sono i laboratori industriali sono ancora più verso destra molto organizzati ricerca molto applicata e sei tenuto al servietto industriale interagisco adesso con diverse compagnie e si pubblica rarissimamente e quando si pubblica non è neanche un buon articolo perché normalmente è talmente applicato che la gente lo prende più per tecnologia che per scienza però hai brevetti ho colleghi che hanno 200 brevetti in industria e sono considerati i leader mondiali di un campo nessuno lo sa veramente a meno che non leggi brevetti andare a conferenze ho un sacco di compagnie che lo vietano perché dicono se vai alla conferenza solo il fatto di come poni le domande fa capire quello su cui lavori e i segreti industriali possono essere presi quindi dipende ok l'enfasi può essere molto sullo sviluppo che la ricerca non è male né bene è giusto o diverso e gli obiettivi possono cambiare rapidamente ho colleghi che si occupavano di leghe nickel titanio tra gennaio e giugno giugno summit della direzione dal giorno dopo poi gli uretani e memoria di forma e questi sono metallurgisti e dicono se non ti piace vai via ne prendi assumiamo un altro e questa è la regola l'ultimo obiettivo è di fare soldi questo non bisogna mai dimenticarlo per uno quando uno di voi mi dice che quello che vuole fare è lavorare un po' per il bene della gente per far vivere meglio la gente automaticamente dico non può essere industriale raramente può essere governativo in certi casi si deve essere accademico poi non ci sono mai muri tra le cose l'esempio di laboratori governativi una marea in italia il cnr in danimarca in australia ce ne sono un sacco il cnr in germania il max planck molto applicato leibniz medio fra un offer no scusate il contrario max planck molto fondamentale fra un offer molto applicato se ti piace la ricerca applicata che vai nelle ditte e vedi e lì e negli stati uniti ce ne sono diversi molti lock ridge jefferson e altri in italia in canada c'è canmet eccetera i laboratori industriali molto conosciuti beh c'è il bell lab luce and technology new jersey ebm diversi posti eulet packard xerox entity in giappone aldor topsoe phillips ce ne sono diversi e ce ne sono anche prestigiosi ma non conosciuti è questo una volta che sapete cosa volete fare una volta che siete capaci di pianificare una volta che avete preso il tempo per pianificare c'è ancora una piccola cosa il vostro ruolo nella scienza siete un tipo alfa o un tipo beta questo è essenziale nelle squadre di calcio ci sono undici giocatori e quattro ruoli generali tutti sono importanti uguali nella nostra descrizione della scienza ci sono due ruoli alfa e beta alfa normalmente è il leader il professore ma leader non va preso positivo perché il leader ha anche tante cose negative che ora cerco di spiegarvi generalmente il professore nel senso credo anche italiano ma io avrei tendenza a dire più nordamericano del termine magari anche europeo però sarebbe da discutere al professore normalmente piace generare idee e cercare di raggiungere di sviluppare queste idee alfa normalmente non spende molto tempo in laboratorio in generale anche se vi dicono che il loro sogno sarebbe di passare la vita in laboratorio con le mani nelle soluzioni non è vero non è vero sono balle perché se lo vogliono lo possono perché ho colleghi che ogni pomeriggio stanno in laboratorio però scelgono di avere due studenti e ogni pomeriggio passano come papà con figlio e figlia a giocare al campetto dietro casa e giocano nel laboratorietto sotto l'ufficio ed è interessante però non sono veramente alfa io credo io credo nell'idea di un professore che è più un comandante è brutto parlare di comandante di navi in Italia con quello che è successo alla costa ma vabbè per me il comandante di navi è l'ultimo a lasciare il battello ok non è il primo a saltare perché c'è buio fuori ma comunque questa è un'altra storia diciamo così ragazzi io credo che l'idea di un professore è quella generare idee guardare non sulla vetta della montagna no la vetta della montagna è troppo facile bisogna guardare dall'altra parte della montagna bisogna immaginare cosa avviene dopo di domani con le nuove tecnologie che saranno sviluppate adesso il mondo il tema interessante il semfib di cui ne avete due è geniale però oramai è passato sono lì adesso si ammiglioreranno la vera tecnica che si sta sviluppando e ce ne sono tre al mondo sono i microscopi dinamici nei quali metti dei campioni sottoposti a dei gradienti elettrici meccanici cellulari e in situ mentre il meccanismo si realizza tu puoi guardare immaginate di osservare una cellula mentre si differenzia con un tema la guardate in trasmissione questa è una cosa eccitante quindi un professore secondo me non deve dire può lavorare per avere un fib però deve pensare tra cinque anni sarebbe bello avere un tema dinamico e questo costa 16-20 milioni bisogna dirglielo al direttore di IIT mi piacerà l'idea perché questo secondo me è veramente il futuro perché oramai noi guardiamo sempre anche in biologia anche in materiali guardiamo prima e dopo guardiamo il materiale costruito e il materiale deformato guardiamo il materiale intero e il materiale rotto guardiamo la cellula allo stato A e allo stato B ma non guardiamo mai tra A e B cosa succede immaginate di guardare a livello Armstrong come le proteine della matrice estacellulare cambiano durante la differenziazione durante l'adesione la proliferazione le spreading non so come dire in italiano quindi vedete leader in questo senso non è un leader è un leader per competenze non è secondo me un professore non dovrebbe essere un leader mandato lì dall'alto non è un leader gerarchico e secondo me è molto stupido ricerca avere strutture verticali bisogna solo avere strutture orizzontali perché la motivazione della gente anche degli studenti anche degli studenti di tesi non è sfidandoli ma è piuttosto dandogli libertà e dire divertiti ma fammi vedere cosa sei capace di fare e questo secondo me è molto più interessante piuttosto che dire devi fare quindi e poi c'è il B non è male non sto dicendo che uno è il capo uno è il cowboy l'altro l'indiano uno è il capo l'altro è il servo no assolutamente uno senza l'altro non fa niente potete avere tutta la visione che vorrei io dico sempre a me piace a me piace sedermi e scrivere domande di fondi perché nelle domande di fondi immagino il futuro e questo mi piace tanto però poi quando i fondi li abbiamo per sapere cosa fare pratico mi piace un sacco sedermi come quattro associati di ricerca che sono di tipo B hanno un dottorato hanno 80 90 pubblicazioni a 40 anni perché sono su diversi articoli sono pubblicazioni innovative però non vogliono essere professori non vogliono la pressione non vogliono la responsabilità non vogliono la responsabilità di dire ho 20 studenti ho 5 postdoc ho 4 associati di ricerca e devo trovare i fondi per loro non hanno questa personalità per farlo però mi devo sedere con loro per capire cosa fare a loro piace fare la scienza non gestirla ed ecco perché non sono convinto che se io passassi delle ore in laboratorio non passo mai in laboratorio e quando vado in laboratorio sento che i miei studenti sono dicono ma cosa fa perché viene a ceccarmi c'è qualcosa che non va no in laboratorio mi piace portare equipment e avere un laboratorio che funziona eccetera però non chiedetemi come far funzionare il mio ISPS e non ho vergogna a dirlo non chiedetemi come far funzionare il mio microscopio a forza atomica l'ho già fatto funzionare ma oggi non sono più capace è un microscopio proprietà meccaniche viscola seccità eccetera culture cellulari l'esecutore piace passare delle ore nel laboratorio girare i bottoni avere il lavoro fatto get the work done e questo è una sicurezza per il in fondo è un è un è un mutuo una mutua dipendenza senza i miei collaboratori in laboratorio i collaboratori sì parlo di dottorandi di dottorandi di tesi scusate no di dottorandi e di master ma non ne ho tanti di postdoc ma parlo soprattutto di associati di ricerca quelli che che sono permanenti cioè finché io vivo loro vivranno io senza loro non posso realizzare niente ed è bello avere idee ma se non sei capace di concretizzarle zero ecco perché queste persone sono veramente elementi rari in Italia non c'è molto questa figura perché c'è la figura della segnista ma la segnista è qualche anno eccetera invece trovo che le strutture di ricerca anche quelle che ho visitato ieri a IIT eccetera beneficerebbero tantissimo di avere un numero esiguo di persone pagate dal prof perché deve essere pagate dal prof ci deve essere un rapporto di prof non possono essere pagate dal governo il prof deve trovare i fondi per pagarsi i suoi associati di ricerca e quelli e gente che condivide la visione sogna le stesse cose la sera addormentandosi nel letto ma è solo che certi le sognano e certi facendosele sognare sono capaci domani o tra qualche anno di realizzarle e questo è interessante è veramente una mutua dipendenza questo alfa e beta non credo che qualcuno ve ne ha già parlato in Italia perché in Italia giustamente il beta non c'è troppo tutti vogliono essere alfa e questo è questo che non va ma tra l'altro posso dire una cosa? puoi dire tutto quello che vuoi mi fa piacere è vero in Italia non c'è tanto è vero che a me verrebbe da pensare alfa e alfa primo perché in realtà mi sembrano molto più vicini come ruoli non in quello che fanno però nel fatto di il research associate gestisce tanto in realtà è molto manager e ha chi è beta in Italia è veramente chi è sarebbe lo studente the bench worker chi sta solo lì e pipetta e il research associate penso che sia una figura molto importante che a noi manca tanto certo e lo vedo molto alfa primo come non lo so un complementare sì esatto è per quello che ho messo beta e non ho messo theta o gamma ho detto sono veramente più vicini ho messo un altro ho messo beta e non alfa primo perché sono comunque due figure veramente distinte e quindi è questo e sappiate che nel mondo è così che la ricerca è fatta non chiedetevi come la ricerca è fatta nei laboratori americani è fatta così e nei laboratori australiani e anche in Cina oramai è così quindi c'è qualche isoletta che sopravvive con altre strutture uno studente un postdoc l'alfa non può essere catapultato dall'alto l'alfa deve essere deve essere stato un beta e un gamma deve essere stato studente deve essere stato postdoc deve aver fatto qualcosa per eseguire realizzare la ricerca e ci sono certi che si fermano a beta e onestamente con voi o ho avuto studenti al dottorato che alla fine del dottorato era chiaro che erano dei vita e non degli anni quelli è importante far realizzare a questi studenti perché non vale la pena provare a diventare alba saranno dei cattivi professori saranno dei cattivi gestionari saranno dei cattivi direttori di ricerca no e quelli devono avere la coscienza di conoscere se stessi e dire io non voglio le responsabilità le vivo male ho colleghi che hanno situazioni familiari terribili grossi problemi a livello malattie eccetera e in fondo hanno voluto essere alfa e adesso la vivono molto male perché automaticamente sono gli estremi della gaussiana e non dalla parte positiva e quindi sono sempre aditati come ma tu non fai ricerca ma tu insegni male sì perché non sono alfa sono dei beta è gente che dovrebbe stare in laboratorio e certe volte e questo mi permetto con voi che siete critici certe volte in Italia ci sono tanti beta che però vogliono tutti diventare alfa e quando saranno alfa saranno dei cattivi alfa e avrebbero potuto essere dei beta geniali e non c'è beta alfa gli stipendi sono quasi uguali in Canada i miei associati di ricerca sono tra 80 e 100 mila all'anno quindi non è molto distante dal mio stipendio capito? quindi è questo e l'idea è proprio questa manager o leader e questo è veramente importante bisogna apprezzare la differenza bisogna capirla la differenza tra un manager di un gruppo di ricerca e un leader il leader non è esattamente la stessa cosa un gestionario è qualcuno che run the research la fa andare un leader è qualcuno che innanzitutto insegna per esempio e l'esempio è in tutto quello che avevo detto prima comunicatore critico curioso creativo le communication sono importanti io conosco quando vedo un professore che insegna male so che è un manager e non è un leader ognuno ha la sua personalità questo ne siamo tutti d'accordo c'è quello che è più espansivo c'è quello che è più formale c'è quello che è meno espansivo ma c'è anche quello che va davanti alla gente parla e non guarda la gente e non capisce che la gente si addormenta io dico sempre se sei un professore e hai davanti da te ok voi siete solo in sei non potete dormire perché vi vedo tutti però se siete qui in centro guardandovi capisco se mi seguite o no se non mi seguite sta a me aggiustare il tiro non sta a voi mettere degli stuzzicadenti tra le palpebre degli occhi per rimanere svegli quindi dico è il mio la mia responsabilità di fare un corso interessante interessato e un po' di un certo livello normalmente i leader adorano presentare oralmente scrivere eccetera perché se no non sarebbero leader un professore deve essere capace di scriversi di scrivere facilmente deve essere un buon comunicatore deve essere anche una buona persona che motiva facilmente la motivazione è importante non sto dicendo che deve essere un istrione nel senso aiziano di Haiti del termine capito? o nel senso mago no no nel senso deve essere una persona che è appassionata e è capace di trasmettere un po' della sua passione vi assicuro bisogna essere pazienti e certe volte chi ci scappa è mia moglie perché poi arrivo a casa e con lei sono meno paziente cazzo sei stato paziente tutto il giorno con i studenti e non sei paziente con me e dico no perché no va bene deve essere anche una persona a cui piace parlare io credo che un professore a cui non piace parlare è un professore che manca qualcosa e non è un manager e non è un leader è un manager e i manager sono quelli ve l'ho già detto nel mio MBA la cosa più importante che ho imparato è la seguente se sai fare le cose le fai se non sai farle le insegni sembra stupido mio padre che era meccanico adesso in pensione mi dice ma sei scemo tu insegni cose che non sai fare come fai a insegnarle solo quando le insegni e non le hai fatte sei capace di concettualizzarne una alla volta un step past step sei capace di fragmentare l'azione quando sei capace di farle io sono zero con le mani mio padre è bravissimo e mio padre dice ma insegnami a mettere i chiodi ma cosa ti devo insegnare prendi il martello e picchia no non è così semplice fragmenta la cosa comprate un libro di fai da te e lì vi insegnano come martellare e ci sono in Germania ci sono 16 step per imparare insegnare a infilare un chiodo bene non è prendi il martello e il chiodo e picchia dentro devi guardare la superficie devi vedere immaginare cosa c'è sotto devi scegliere il buono chiodo devi avere il buon martello non puoi usare un martello a testa ronda per un chiodino quindi mi capite allora sembra stupido quindi se sai fare le cose le fai se non sai farle le insegni se non sei capace a insegnarle le gestisci e questa è un'altra cosa importante perché c'è gente che non è capace di insegnarle ma è capace di gestire cioè dimentichi tutti gli step by step dimentichi la fragmentazione del progetto e tiri le somme delle colonne dici è stato fatto? dimentichi l'emozione che c'è di prendere un progetto e smembrarlo se non sei capace di gestirlo e quello è il peggio di tutti o il meglio lo amministri amministri vuol dire decidi chi fa che cosa e quando se hai fatto le cose prima lo farai bene se no lo fai come lo vedi in certe cose mi dicevano quando in un laboratorio di biologia si spegne l'aria condizionata a mezzogiorno perché si va a mangiare quella è una cosa stupida perché è un amministratore che non ha mai fatto cultura di cellule e questo non è grave quello che è grave è che non ha la voglia di venire in laboratorio e dire ma tu perché dici che ah ma cosa sono queste cosettine qui rosse rotonde cosa c'è dentro le cellule e come fai a vedere il microscopio vieni qui ti faccio vedere e questa è una voglia un desiderio e quella si chiama intelligenza la persona intelligente non farà mai erovi così come sempre sapevo che ci si prende più tempo di altre avete domande? se avete domande mi piacerebbe che mi fermate per quanto riguardava associati di ricerca è una situazione canadese rispetto a quella europea perché è una situazione europea stavi appena citando un po' scomparso la figura del ricercatore a tempo indeterminato cose di questo genere è scomparso anche in Germania ho saputo recentemente quindi anche lì hanno una struttura molto simile a quella della post-riforma italiana dieci anni in cui puoi rinnovare i tuoi assegni di ricerca dopodiché o trovi un posto da professore associato o sei fuori fondamentalmente nell'ottica di alfa e beta questo tipo di riforma tu come la vedresti allora? qual è la situazione in US Canada? questa riforma in Italia? sì sì in Italia attualmente funziona così e in Germania c'è una cosa quasi del tutto equivalente non ho riflettuto molto e sono domande serie che bisogna rifletterci un po' di più che qualche secondo tra quando tu me la poni e io ti rispondo il primo acchito la prima reazione che ho è non è un metodo logico credo è un metodo per per diserbare hai troppo hai troppa gente e vuoi eliminare e dici facciamo le cose dure così solo MacGyver uscirà dalla foresta più metto ostacoli nella foresta e più ne faccio entrare e meno gli do in mano da proteggerci e più ci sono bestie feroci ci sono pochi che escono e quelli che usciranno saranno duri ok se vuoi dei duri si se vuoi mandare in Afghanistan si ma magari non è quello che vuoi allora io sono sempre dell'idea che criteri chiari regole precise e bandi predictable che possono essere immaginati qualche anno prima e quindi uno può sviluppare sono meglio di dire hai dieci anni per far vedere quanto vali personalmente dieci anni è troppo guarda io 45 lo capisco che a 45 non sono più sveglio nella ricerca come lo ero quando avevo 25 anni quando avevo 30 anni quando ho incominciato come professore era molto più reattivo ero meno posato ero spinnavo come un elettrone libero oggi sono un po' più posato sono più efficace su 100 cose che faccio ne posso riuscire 90 10 anni 15 anni fa su 100 cose che facevo ne riuscivo 15 e già non era male quindi io non credo che bisogna veramente sfoltire la foresta poi bisogna vedere caso per caso non so quanti parassiti ci sono nel sistema è da dire mettiamo i filtri così i parassiti li eliminiamo certo la ricerca diventa più competitiva questo è chiaro questo lo so a livello internazionale diciamo per me non è vera competizione perché i fondi ci sono e l'ho visto ieri avete dei laboratori equipaggiatissimi siamo un'università da 1200 professori con 40.000 studenti la nostra facoltà sono 6.000 pubblicazioni l'anno e abbiamo un fib voi qui ne avete due i fondi ci sono qualcuno da qualche parte ha i soldi magari non sono nei buoni budget magari non sono allocati nelle buone cose ma i fondi ci sono bisogna darli in maniera in maniera in maniera è duro da trovare la parola ma te lo dirò in maniera compatibile con la visione che si ha di ciò che si vuole sviluppare tra 5 e 10 anni o 20 anni ed è questo che io direi ti risponderei così magari ho risposto troppo largo e dici questo qui è sta viandando politico però mi capisci cioè io credo che l'Italia la Francia la Germania l'ha fatto bisogna sviluppare una missione bisogna dire il CNR cosa fa e l'IT cosa fa e l'Università del Salento cosa fa e il Politecnico di Milano cosa fa e allora mi piace la Germania che dice Max Planck fondamentale non chiederemo mai al Max Planck quanti brevetti ha fatto perché non è il suo mandato e invece i brevetti li chiediamo a Fraunhofer perché loro devono lavorare con se vai nel Fraunhofer per fare articoli ma errore devi andare nel Max Planck è la maniera tedesca di vedere le cose che non dico che è la migliore però è quella che è in tempo di ristrettezze economiche cioè in fondo facciamo una cena tra due giorni e se vogliamo pagare poco bisogna dire al ristorante quanti pesci e quante carne cosa mangerai tra due giorni pesce o carne e tu mi dici no ma io voglio aspettare l'ultimo minuto perché magari voglio di pesce magari va voglio di carne e allora pagherai un po' di più mi capisci quindi facciamo magari una piccola pausa perché conoscendo credo che è buono 5-10 minuti 10 minuti 11.05 11.15 e avrò ancora per un'oretta visto che magari finiamo a mezzogiorno e mezza a mezzogiorno e un quarto se va bene va bene se no se volete chiudere a mezzogiorno possiamo chiudere a mezzogiorno mi dite voi tornando dalla pausa va bene grazie a mezzogiorno a mezzogiorno a mezzogiorno Grazie a tutti.